Sapete che nella migliore delle ipotesi delle otto ore che lavorate almeno sei servono per finanziare lo Stato italiano e solo una o due al massimo sono quelle che effettivamente lavorate per voi stessi e per i soldi che vi rimangono in tasca? Ed il tutto grazie a diversi trucchi di prestigio che molti governi, compreso il nostro, hanno sviluppato nel corso del tempo per sfilare soldi ai cittadini, anche in modi molto celati, con una duplicazione di imposte che vengono chiamate in altri modi o con anche spese obbligate ed indirette che alla fine dei conti portano comunque i soldi nelle casse dello Stato. Ovviamente tutto questo è fatto in modo che noi cittadini non ce ne accorgiamo e proprio per questo oggi proviamo a vedere quanti soldi effettivamente paghiamo di tasse dal nostro stipendio perché sono molti di più di quelli che vedete sottratti in busta paga, anzi probabilmente sono quasi il doppio e capiremo cosa fare esattamente per evitare che questo accada. Iniziamo però da quello che tutti quanti dovremmo conoscere, ossia le imposte esplicite che paghiamo. In Italia, in media, il carico fiscale è del 43,8% che però potrebbe non essere necessariamente esplicativo del vostro caso specifico ed è leggermente variabile ma sono sicuro che almeno il 40% di tasse molti di voi lo pagano. Quindi questo significa appunto che in media, sul reddito che avete, lo Stato si prende circa il 44% per tutti i servizi che vengono offerti come sanità, giustizia, scuola, pensioni e molto altro. E il tutto avviene in forma esplicita, ossia voi sapete quante tasse pagate e a che cosa servono di fatto quei soldi. O almeno in linea di principio e fino a qui siamo più o meno tutti d'accordo. Le tasse si pagano per avere dei servizi efficienti e non mi metterò a sindacare sulla qualità dei servizi offerti a fronte di questo carico fiscale su cui uno potrebbe investigare. Tuttavia, se dopo aver pagato questo 44% pensate di aver finito, mi dispiace ma le cose non stanno così. E ci sono diverse altre imposte che paghiamo e di cui sono sicuro che la maggior parte di voi non è minimamente consapevole e che per essere compresa richiede uno sguardo più approfondito nelle nostre vite. Ma iniziamo dalle cose banali. Ogni volta che fate un acquisto qualunque con i soldi che vi arrivano in busta paga, pagate l'IVA. Ossia l'imposta sul valore aggiunto, che è una tassa abbastanza ovvia da comprendere seppur in certi casi non abbia particolare senso e per il consumatore rappresenta un costo esplicito anche su spese di prima necessità per vivere. E nella maggior parte dei casi un ulteriore 22% che entra nelle tasche dello Stato per ogni euro che scegliete di spendere in qualcosa che può essere ad esempio la macchina, beni alimentari o molto altro ancora. Ma una cosa fondamentale che ancora non ho detto e che vale per l'IVA e per tutte le altre imposte è che i soldi con cui facciamo acquisti sono spesso soldi già tassati ed hanno quindi già subito quel 44% di detrazioni che abbiamo visto un secondo fa. E come vedremo, tutte le restanti imposte, compresa l'IVA, sono solamente dei filtri successivi che i governi hanno nel tempo introdotto per continuare a rosicchiare quello che ci è rimasto in tasca. Ma per capire meglio, andiamo avanti. Potrete pensare che però i soldi che vengono depositati in banca e non spesi in realtà non vengono più tassati, giusto? Beh, in realtà ci sono imposte anche sui soldi che lasciate su un conto come l'imposta di bollo bancaria dello 0,2% dei soldi che lasciate sul conto deposito. Ma qual è il vero motivo? È una domanda che probabilmente ti sei appena fatto anche tu ma la verità è che purtroppo non c'è una risposta definitiva a questa domanda. Quindi potresti pensare di non tenere i soldi sul conto e magari di investirli per guadagnare qualcosa e magari evitare le tasse. Ma probabilmente alcuni di voi sapranno già che ci sono imposte anche sugli interessi o i guadagni che generate dagli investimenti. E ricordiamo che sono investimenti fatti con quei soldi che siete riusciti a risparmiare su cui avete già pagato le tasse e su cui scegliete di correre un rischio di investimento che però è interamente a carico vostro. Quindi riassumendo, se guadagnate qualcosa venite tassati e se perdete soldi invece, beh, fatti vostri. Adesso però siete stanchi di questi stratagemmi sui conti e delle tasse sugli investimenti e quindi con quei risparmi già tassati che magari avete accumulato in 10 anni volete finalmente spenderli per comprare un'abitazione dove vivere e realizzare quindi uno dei vostri sogni. Tutto bellissimo, ma secondo voi i governi non hanno pensato anche a questo? Infatti c'è anche un'imposta di acquisto sugli immobili ed è del 4% per la prima casa. E se pensate che tutto sommato non siano troppi soldi sappiate che in media un'abitazione in Italia costa sui 150.000 euro e quindi i soldi che dovrete versare nelle tasche dello Stato ammonterebbero a circa 6.000 euro soldi che lo Stato, giustamente, non avrebbe mai lasciato sul tavolo. E questa percentuale aumenta fino al 9% per l'acquisto della seconda casa e per le successive. Una volta poi comprata e accettata questa cosa ci sono anche delle tasse e imposte ricorrenti che dovete pagare comunque sulle abitazioni come la Tasi in media di 150 euro all'anno o la Tari visto che lo Stato passerà a cogliere i rifiuti fuori casa vostra che in media monta a 325 euro all'anno e se dopo magari tanti anni decidete di comprare anche la seconda casa magari per vostro figlio farete i conti anche con l'Imu che ha un costo in media di 2.600 euro annui. Ma andiamo ancora avanti perché se avete un'auto le cose diventano ancora più interessanti ma non per voi, sempre per lo Stato che considera le automobili un vero e proprio miracolo che gli porta in tasca un sacco di soldi. Ad esempio il bollo auto fa entrare nelle casse dello Stato oltre 70 miliardi di euro all'anno oppure ci sono anche le accise sulla benzina che comunque pagherete e rappresentano circa il 55% del costo totale del carburante. A tutto questo poi dobbiamo anche aggiungere il prezzo dei parcheggi che paghiamo al comune in determinate zone, il costo dei caselli autostradali che è come se non bastasse anche aumentato molto e le varie multe che le persone pagano e che vanno a riempire sempre di più le tasche dello Stato. Infine l'ultima idea creativa sfruttata dallo Stato e dai governi in generale è stata quella di creare delle aziende con cui fare soldi un po' come fanno i cittadini che però poi vengono resi dei monopoli che solo i governi possono aprire o che richiedono di pagare dei soldi per le licenze che solo lo Stato può offrire e che gli fanno incassare qualche soldino extra. Proprio in questo modo sono nate cose come il gioco d'azzardo che fa entrare nelle casse dello Stato oltre 10 miliardi di euro all'anno e che è ovviamente un'esclusiva dello Stato e non potete ovviamente inventare voi altri giochi ludici per far scommettere altre persone. Oppure altre aziende statali come la Rai per cui viene automaticamente dedotto il canone dalla bolletta della luce o la vendita di sigarette per cui è necessario ovviamente una licenza da decine di migliaia di euro e potrei andare avanti su praticamente quasi ogni aspetto della nostra quotidianità ma onestamente credo che il messaggio sia stato ben recepito. Immagina se qualcuno ti avesse detto che avresti dovuto pagare circa l'80% del vostro stipendio in tasse. Probabilmente non vi sareste nemmeno alzati dal letto la mattina per andare a fare un lavoro che non vi piace ma soprattutto le persone avrebbero seriamente pensato sul da farsi e su quanto veramente conviene lavorare per finanziare qualcun altro. In poche parole le persone si sarebbero fatte due domande e sicuramente non avrebbero accettato quello che lo Stato voleva fare e così è stato molto più semplice per lo Stato spezzettare queste imposte e nasconderle in modo da rendere il tutto o meno doloroso. Ora mi rendo conto che per questa situazione molti di voi possano essere arrabbiati ma la verità è che nei paesi sviluppati funziona quasi dappertutto così e le differenze si vedono magari nella qualità dei servizi che vengono offerti e che probabilmente nel nostro paese dovrebbero essere migliorati. Ed anche questo però è un fattore che rende ancora più complessa la comparazione fra i metodi di tassazione di ogni Stato. E se ora magari state pensando di dare la colpa agli evasori fiscali, al reddito di cittadinanza o altre cose ancora, tenete presente che questi sono tutti capri spiatori di cui il governo non fa altro che beneficiare, visto che forniscono qualcuno o qualcosa a cui puntare il dito invece di guardare a quello che fa il governo stesso. Ora però passiamo alla parte più importante, ossia andiamo ad esaminare quelle che possono essere delle possibili soluzioni a questi problemi. Purtroppo è vero che non c'è moltissimo che possiamo fare come cittadini e soprattutto nel breve termine, ma alcune cose fortunatamente ci sono ed hanno anche un impatto molto significativo per ridurre la quantità di tasse da pagare. Il primo punto è quello di fare attenzione al consumismo e a dove e quanto si spende, perché per ogni acquisto come abbiamo visto, oltre che far uscire i soldi dalle nostre tasche, rappresenta anche un'entrata in più nelle casse dello Stato, che quindi ha tutto l'interesse affinché questo fenomeno continui e non farà di certo nulla per contenere le pubblicità di cose completamente inutili e la cultura dello spendere in cose che non hanno valore. Insomma, per riassumere, state attenti a come spendete quei soldi che vi guadagnate duramente, perché dovete sempre ricordare che oltre ad essere già tassati quando li ricevete, verranno nuovamente tassati quando li utilizzerete per acquistare qualcosa. Il secondo punto però è forse il più importante, ed è la conoscenza. Più noi, in quanto popolazione, lasciamo spazio all'ignoranza e non ci informiamo a riguardo del funzionamento dei governi e più questi possono fare quello che vogliono. Capire questi meccanismi e essere informati su quello che si può fare per pagare meno tasse e comportarsi di conseguenza è fondamentale per non cadere in queste trappole ben preparate da qualcun altro. Giusto per fare degli esempi su alcune cose su cui potreste essere informati, l'imposta di bollo si può non pagare se state attenti alla giacenza media dei conti, soprattutto quelli correnti. E i buoni pasto, ad esempio, sono una soluzione molto efficiente per quanto meno dedurre i costi del cibo. E infine l'ultima cosa, forse la più difficile, ed è di giocare con regole diverse. Una volta che conoscete le regole del gioco di cui abbiamo appunto discusso brevemente ed i meccanismi che sono stati messi in piedi per spillarti i soldi qualunque cosa tu faccia, l'unica vera soluzione è giocare ad un gioco diverso. Questo non significa evadere le tasse o andare a vivere all'estero, ma dovete comprendere che questi meccanismi dopo tutto non sono studiati per calzare esattamente sul vostro stile di vita, ma più in generale per funzionare bene sulla popolazione in media. Infatti se vivete da eremita sulla montagna e trovate un modo di essere veramente felici con pochi soldi sotto il materasso e vi mangiate le cose dell'orto che producete, si può fare ben poco per tassarvi. Ovviamente non è lo stile di vita che voglio promuovere ed è solamente un esempio estremo. Detto questo, se vuoi cercare di cambiare la tua vita dal punto di vista finanziario, sul mio canale potrai vedere molti altri video che potrebbero fare al caso tuo e ti consiglio quindi di iscriverti e di mettere un mi piace a questo video per supportarlo e farlo arrivare al maggior numero di persone possibili. Grazie per la visione!